Se stai guardando questo video posso solo presumere che la qualità audio dei video che stai producendo in questo momento non ti soddisfia pieno e che tu voglia quindi andare a migliorarla. Sei nel posto giusto perché questa è una piccola guida definitiva che ti svelerà tutti i segreti per registrare un audio perfetto nei tuoi contenuti per YouTube. Ok partiamo subito facendo una piccola osservazione avrete sicuramente notato che qualsiasi camera stiate utilizzando avrà un microfono tutte le camere in commercio attualmente dispongono di un microfono interno ebbene quel microfono per registrare un buon audio per i nostri video è completamente inutile. I microfoni presenti all'interno di qualunque camera noi stiamo utilizzando non ha le caratteristiche necessarie a darci un audio di qualità come quello che abbiamo sempre sognato. Innanzitutto per via delle dimensioni ovviamente un microfono compresso all'interno di una videocamera o fotocamera non è sicuramente la scelta migliore per andare a catturare l'audio nella maniera più appropriata. Questo dipende anche dal fatto che i produttori di videocamera e fotocamera non si concentrano tanto sulla produzione di un microfono adatto a essere inserito all'interno della camera. Innanzitutto perché altrimenti dovrebbero alzare il prezzo e quindi il prodotto comincerebbe ad andare fuori mercato. In secondo luogo perché un microfono è una scelta molto personale come andremo a vedere all'interno di questo video proprio come un obiettivo. Sarebbe quindi pregiudizievole dotare una videocamera di un microfono anziché di un altro. Molto probabilmente sarebbe comunque necessario andare a utilizzare via via dei microfoni diversi a seconda di quello che vogliamo fare. Pensateci se stiamo realizzando un'intervista useremo una microfonazione di un certo tipo. Se stiamo facendo un video all'aperto useremo una microfonazione di altro tipo. Se stiamo girando delle scene per il cinema utilizzeremo nuovamente una strumentazione dedicata. Quindi è assolutamente impossibile stabilire a prescindere quale tipo di microfono inserire all'interno di una fotocamera. Non solo, ma la maggior parte dei casi che andremo a esaminare prevedono l'utilizzo di microfoni esterni alla camera. Proprio come i flash e le luci che andiamo a utilizzare di volta in volta, un microfono esterno alla camera è molto più versatile e potente. Perché è sempre adatto a riprendere la scena esattamente come la vogliamo. Parliamo anche della distanza. Come potete vedere io sto utilizzando un microfono da studio che in questo caso è il Blue Yeti. Lo sto tenendo abbastanza vicino alla mia persona, mentre la camera che sto utilizzando per riprendere è abbastanza lontana. Questo perché nel momento in cui io metto il microfono vicino, il microfono avrà la possibilità di catturare la mia voce in maniera molto più limpida e pulita, piuttosto che se l'avessi collocato dove sta in questo momento la camera. Quindi l'audio della fotocamera che comunque sta venendo registrato, a che cosa serve? Serve semplicemente a sincronizzare l'audio che io sto registrando da questo microfono con l'audio del video vero e proprio. In fase di post-produzione si andranno a sincronizzare le due parti audio in maniera tale da poter usare l'audio figo dal mio microfono, cancellando poi l'audio meno figo catturato dal microfono della mia videocamera. Questo perché il microfono più vicino a me ha la possibilità di catturare il segnale della mia voce in maniera più limpida, escludendo gran parte di quelli che sono i riverberi della stanza. Ovviamente se noi avessimo collocato il microfono dove si trova adesso la videocamera sarebbe stato più lontano e quindi avrebbe catturato più rumore ambientale e più riverbero della stanza. Proprio a questo proposito voglio farvi vedere una cosa. Questo è uno shield, uno scudo acustico fatto apposta per andare a minimizzare quelli che sono gli effetti del riverbero ambientale. Normalmente il microfono viene posto al suo interno più o meno in questo modo. Ovviamente si dovrebbe fare il contrario, ovvero io dovrei mettere il microfono dietro, ma se lo faccio non mi vedete più. Questo scudo serve ad andare a minimizzare le fuoriuscite dell'audio, quindi nel momento in cui io vado a parlare o cantare al suo interno col microfono collocato qui dentro, andrò a registrare meno rumore ambientale, meno riverbero del resto della stanza, in generale meno cose che non voglio sentire. Ovviamente una soluzione come questa non mi permette di eliminare completamente i rumori ambientali, però è comunque una buona alternativa a registrare semplicemente in una stanza non trattata. Parliamo un attimo della stanza, se stiamo registrando in interni anche la stanza fa la sua parte. Ovviamente una stanza spoglia, senza mobili, con le pareti nude, avrà molto riverbero e sarà quindi completamente inadatta a registrare la voce in maniera pulita ed efficace. Arredare la stanza, introdurre dei mobili e soprattutto introdurre dei pannelli fonoassorbenti, magari dedicando anche un po' di studio all'acustica dell'ambiente lavorativo, può sicuramente migliorare parecchio il nostro audio. Questo ci consente poi di andare a posizionare il microfono più lontano dalla nostra persona. Nel caso questo non sia possibile o nel caso la stanza abbia di per sé una cattiva acustica, la soluzione migliore è sempre avere il microfono più vicino possibile alla persona che parla o comunque alla fonte sonora che stiamo registrando. Un'altra cosa di cui tenere sicuramente conto quando si cerca di registrare un audio pulito cercando di eliminare tutti i rumori ambientali indesiderati, è che in molti casi possiamo impostare il nostro microfono in maniera tale che catturi l'audio solamente da una parte e non tutto intorno. In particolare questo microfono, il Blue Yeti, ha la possibilità di essere impostato in tanti modi diversi. Io gli posso dire per esempio che voglio che registri solamente frontalmente, oppure gli posso dire che voglio che registri in maniera stereo, oppure gli posso dire che voglio che registri a 360 gradi tutto quello che avviene nella stanza. Ovviamente per fare questi video io l'ho impostato in modalità cardioide in maniera tale che prenda solamente la mia voce e cerchi di escludere tutto quello che viene da dietro. Questo non è completamente possibile per via del fatto che comunque anche una fonte sonora che proviene da dietro il microfono finirà per arrivare fino davanti, rimbalzare sulle pareti e tornare a essere registrata dal microfono. Quindi non è possibile escludere completamente una fonte sonora indesiderata, tuttavia possiamo mitigarla parecchio con questo e altri accorgimenti. Per quanto riguarda il frontale del microfono, esistono dei dispositivi chiamati pop shield, che servono a schermare il microfono dal movimento d'aria che io produco semplicemente parlando. Nel mio caso io non lo sto usando perché dopo i dovuti tentativi ho riscontrato che riesco tranquillamente a parlare senza provocare dei fastidiosi pop, quindi quegli schiocchi che danno fastidio e senza respirare sul microfono che ha un effetto fastidioso che si sentirebbe in video e darebbe molto fastidio. Mi succede così di rado che non utilizzo un pop shield in questo caso che andrebbe a essere visibile nell'inquadratura e quindi ho preferito evitare proprio perché non ne sento la particolare esigenza. Riascoltando l'audio dei miei video non ho riscontrato l'esigenza di questo particolare tipo di dispositivo. Ovviamente a seconda della produzione che stiamo cercando di portare a termine valuteremo se è il caso di introdurre questo dispositivo o altri di cui abbiamo parlato. Ovviamente è buona norma cercare anche di andare a ridurre tutto quello che può essere fonte di disturbo. Quindi vi faccio un esempio. Sentite questo rumore? Non è bello da sentire. Qualsiasi cosa, collanine, orologi, gioielli, qualunque cosa che vada a creare tintinio e che vada a creare interferenza dovrebbe essere rimosso durante le nostre riprese. Questo per andare a evitare il rischio di trovarci poi in ripresa con un rumore che si fa fatica a eliminare perché se io faccio così mentre parlo, poi questo rumore mentre io parlo non lo elimino più. Magari io non me ne accorgo perché durante le riprese ho occhi peraltro, non mi accorgo magari che la persona che sto riprendendo ha addosso un braccialetto e poi mi ritrovo con i tintinni e cose di altro tipo. Quindi cerchiamo di essere furbi e cerchiamo di eliminare tutto quello che può creare fastidio. Perché io non lo sto facendo? Seguite fino alla fine del video per scoprirlo. Bene, ma se il microfono delle nostre videocamere è completamente inutilizzabile andiamo un po' a scoprire che tipologie di microfono possiamo andare a utilizzare in sostituzione. Cominciamo da questo che vi faccio vedere. Questo è un microfono Lavalier, è un microfono che si va ad attaccare sul bavero della camicia, dell'indumento della persona che stiamo riprendendo. Il filo va poi magari a essere nascosto all'interno della maglietta in maniera tale che si vede il meno possibile. Questo qui è in assoluto uno dei microfoni più piccoli che possiamo andare a utilizzare, uno dei più invisibili di quelli che si collocano all'interno della ripresa. Quindi il mio microfono Blue Yeti è all'interno della ripresa, è abbastanza vistoso, lo si vede, non si può far finta che non esista. Io devo anche stare attento se gesticolo perché lo butto giù. Quindi è un microfono assolutamente presente nella ripresa. Questo è un microfono un pochino più invisibile. Si può collocarlo in questa posizione. Se il mio indumento è nero finisco per non vederlo praticamente più. Certe volte, soprattutto nel cinema, quando un microfono non deve essere visibile, si tende magari a metterlo sotto i vestiti. Questa è una soluzione che io sconsiglio e che non amo per niente perché ogni piccolo movimento del microfono contro il tessuto andrà a creare dei rumori che renderanno la ripresa audio completamente inutilizzabile. Questo è un microfono molto utile se si vogliono microfonare più persone o se si vogliono usare dei radiomicrofoni. È possibile connetterlo via wireless tramite dei dispositivi dedicati e avere le registrazioni audio separate anche di più persone. È una soluzione abbastanza economica. Di tutti i microfoni che vi faccio vedere oggi è sicuramente il meno costoso. Passiamo alla seconda opzione. Questo qui è un bellissimo microfono della Rode di cui vi lascerò ovviamente il link in descrizione. Questo è un microfono con una staffa adatto a essere attaccato al di sopra della nostra fotocamera. Con l'ausilio di un piccolo grip può essere attaccato anche a uno smartphone. Quindi è assolutamente versatile. Il cavetto con un adattatore può entrare anche in un iPhone. Quindi è un microfono che va bene un po' per tutte le stagioni. È abbastanza direzionale nel senso che è pensato prevalentemente per interviste e contesti dinamici dove comunque io vado a catturare l'audio davanti alla mia fotocamera. Quindi vado a catturare l'audio con un cono di ripresa abbastanza ridotto. Tuttavia anche questo microfono non è in grado di escludere completamente le fonti di rumore presenti nella stanza. Quindi tutti gli accorgimenti di cui abbiamo parlato poc'anzi rimangono assolutamente validi. Bisogna cercare di minimizzare il più possibile le fonti di disturbo. Cercare di avere una ripresa quanto più pulita, una stanza quanto più silenziosa. E in generale se stiamo riprendendo audio cercare di parlare abbastanza forte e con un volume abbastanza costante. Anche perché questo tipo di microfoni che sono comunque abbastanza piccoli non reggono molto bene la dinamica. Quindi se io sto parlando a un certo volume e poi ho dei picchi di dinamica molto evidenti, quindi vado a parlare molto più piano o molto più forte, questo tipo di microfono tenderà a clippare parecchio. Soprattutto se stiamo registrando con un telefono e magari non usiamo un'app di registrazione dedicata. Quindi avremo un volume di ingresso automatico e questo ce lo farà clippare molto facilmente e ci porterà su molto rumore ogni volta che smettiamo di parlare. Passiamo a soluzioni un pochino più professionali. Questo che vi faccio vedere è il Tascam DR40. È un microfono che a me piace molto, è un microfono portatile. Le sue caratteristiche lo rendono abbastanza professionale, nel senso che questo microfono ha due ingressi bilanciati, quindi ha la possibilità di ospitare due microfoni professionali esterni. Questo lo rende molto appetibile perché se abbiamo dei microfoni professionali, chiamiamoli seri, possiamo attaccarli a questo registratore che a questo punto fungerà da registratore, non da microfono, e catturerà il segnale proveniente da questi microfoni. Quindi possiamo usare anche attrezzatura esterna, possiamo collegarlo a un mixer per catturare l'audio di tutta la scena, possiamo farci diverse cose. Ha anche una coppia di microfoni interni però. Questi microfoni come vedete possono essere orientati, nel senso che possono andare a catturare una scena abbastanza mono oppure una scena completamente stereo. Ovviamente nel caso di una registrazione vocale andremo a posizionarli abbastanza mono per avere meno distrazioni possibili. Nel caso di una ripresa di un concerto, per esempio, andremo invece a cercare di avere una sensazione un pochettino più wide, un pochettino più stereo. Passiamo alle soluzioni professionali per eccellenza. Qui abbiamo questo bellissimo microfono, che è un microfono di AKG, brand che personalmente io amo. Questo è un po' un tuttofare, nel senso che questo microfono va bene per la voce, va bene per la batteria, va bene per un contesto dove bisogna riprendere un ensemble, va bene un po' per tutto. Ovviamente rende meglio su certe cose rispetto che su certe altre. È un microfono che comincia ad avere una fascia di prezzo interessante. Se ricordo bene, questo è stato battuto intorno ai 500€. Quindi stiamo parlando di una soluzione che comincia a essere professionale. Infatti ha un cavo di uscita bilanciato, deve essere alimentato con la corrente Phantom. Non è un microfono da tutti i giorni, non è un microfono da utilizzo easy. Ha infatti bisogno di un dispositivo in grado di alimentarlo. Quindi non è sicuramente un microfono che vi consiglio se state riprendendo con uno smartphone. E neanche con una fotocamera mirrorless o reflex, perché avrete comunque bisogno di un dispositivo, di un mixer o di qualcosa in grado di alimentarlo. Quindi è un microfono già di uso più professionale. Nel caso stiate lavorando con una mirrorless o reflex, mi sento invece di consigliarvi questo ragazzo che sto usando io, che è il Blue Yeti. Questo è un microfono che si alimenta tramite USB, quindi ha comunque bisogno di essere alimentato. Però tutti quanti abbiamo un computer a portata di mano la maggior parte delle volte. Quindi se state realizzando una tipologia di video simile a quella che propongo io, un microfono del genere è la soluzione migliore. Inoltre, questo microfono ha la possibilità di entrare direttamente nella vostra fotocamera o nel vostro cellulare, perché ha un cavo cuffie che all'occorrenza fornisce un segnale molto molto pulito in grado di entrare in un altro dispositivo. Ora, per avere un audio perfetto, non importa tanto quale tipo di microfono si sceglie. Ovviamente andremo a scegliere un tipo di microfono diverso a seconda della scena che vogliamo microfonare, perché se stiamo riprendendo una persona che parla in una stanza possiamo scegliere diversi tipi di microfono. Se stiamo girando un film avremo bisogno di un microfono ben preciso invece, con un boom operator che cerchi di tenere il microfono alto sopra la testa delle persone, sopra la scena che viene ripresa. Un microfono molto direzionale in maniera da escludere più rumori possibili, ma in grado di catturare tutto quello che succede sulla scena. Soprattutto nel cinema si cerca di catturare l'audio vero della scena. Ogni tanto, se diventa assolutamente indispensabile, si chiede agli attori di ridoppiare in studio le proprie scene, ma è una pratica che è andata abbastanza in disuso perché è molto time consuming e molti attori non sono capaci di doppiare, perché non è il loro lavoro. Quindi si cerca comunque di avere una microfonazione adeguata e una scena quanto più silenziosa possibile in maniera tale da riuscire a fare tutto contestualmente. Vi dico un piccolo trucchetto. Se state registrando in un ambiente in cui esiste un rumore di fondo, vi consiglio sempre di catturare un 30 secondi, 60 secondi di rumore ambientale senza le voci. Questo perché nel momento in cui andremo a fare dei tagli è possibile che ci siano delle interferenze o dei momenti di silenzio. Avere il rumore ambientale, anche semplicemente della strada in cui stiamo girando o della stanza in cui stiamo girando, può essere molto utile per andare a riempire i buchi in cui magari si taglia l'audio in momenti in cui quindi rimarrebbe il silenzio. Questo silenzio, in un contesto dove esiste un rumore di fondo, verrebbe percepito e quindi romperebbe l'illusione scenica. Per questo motivo vi consiglio di riprendere sempre 30-60 secondi di silenzio in maniera tale da avere quello sporco da mettere sotto quando serve. Dicevo, al di là della scelta del microfono, importa molto anche come lo impostiamo. Andiamo a vedere come si setta il volume di ingresso e di uscita di un microfono. In particolare ve lo faccio vedere con quello che sto utilizzando, con il Blue Yeti. Il meccanismo è poi molto simile su tutti gli altri microfoni che abbiamo già visto. Nel momento in cui io inserisco il mio microfono, lo attacco a una presa USB e quindi l'avrò attaccato automaticamente al mio computer. Vedete che se vado a vedere nelle impostazioni di sistema, andiamo ad aprire le impostazioni di sistema e vediamo che dentro nel paragrafo audio abbiamo la possibilità di impostare il microfono con cui stiamo registrando l'audio. Io vado a impostare, è già impostato, vado a impostare il mio microfono Blue Yeti. Quindi vedete che vedo molto chiaramente qual è il volume di ingresso del mio microfono. Ora a questo punto io posso fare due cose. Posso lavorare sul gain del microfono se ho una manopola. In questo caso il mio microfono ha una manopola del gain. Il Blue Yeti ha proprio la manopola del gain e ha anche la manopola del volume cuffie. Quindi è fatto apposta, è un microfono dedicato. Nel caso di un microfono più professionale non avrei delle manopole sul microfono, ma passerei da un mixer. La solfa non cambia perché in ogni caso io dal mixer vedo i volumi di uscita del microfono e quindi vado a regolare i fader e le mie manopole in maniera tale che l'audio non clippi. Che cosa vuol dire clippare? Vedete che l'audio, l'audio della mia voce nel momento in cui io vado a parlare, ha un determinato volume. Questo volume deve essere ovviamente non troppo basso, ma nemmeno troppo alto. Perché se diventa troppo alto e arriva alla fine della banda, vedete? Nel momento in cui arriva alla fine della banda il mio audio risulterà distorto perché ho esaurito lo spazio possibile e quindi la mia voce sta venendo compressa in una maniera innaturale e soprattutto indesiderata. Questo è assolutamente da evitare. Catturare un audio pulito è essenziale per avere poi una sorgente con cui siamo in grado di lavorare. Nel momento in cui io catturo un audio pulito posso poi magari andare a distorcerlo in post-produzione, ma se viceversa catturo un audio che sta già clippando, quindi un audio distorto dalla sorgente, non sarò più in grado di recuperarlo. Quindi questo passaggio è assolutamente essenziale. Nel caso stiamo registrando l'audio direttamente sul nostro computer, a questo punto io sono già pronto per registrare perché ho visto che il mio audio non clippa, ho visto che i livelli sono ottimali, posso fare delle micro regolazioni sia dal fader del volume del mio computer, sia dalla manopola del mio microfono o dalle manopole o dai fader del mio mixer se sto utilizzando un mixer. Ma a questo punto io sono pronto ad andare a registrare sul mio computer. Se invece voglio utilizzare l'uscita a cuffie del microfono per andare a registrare su una camera, ed è quello che sto facendo io in questo momento, devo fare un controllo ulteriore. Devo controllare, una volta che sono sicuro che il mio microfono non stia clippando in entrata, devo andare a vedere che non stia clippando nemmeno in entrata nella mia videocamera. Per cui vado ad aprire il menu audio della mia videocamera, come vi faccio vedere, e qui possiamo vedere i volumi audio, la regolazione interna della mia videocamera che raccoglie il segnale del microfono. Se questo segnale non sta clippando ed è posizionato più o meno intorno a meno 12 dB, diciamo che l'audio è quanto più vicino alla perfezione io possa ottenere. A questo punto io sono pronto a registrare. Ovviamente se è troppo basso è un errore, perché nel momento in cui l'audio è troppo basso, io dovrò poi andare ad alzare il volume in post-produzione e questo mi porterà fuori tanto rumore e tanti frusci indesiderati. Se invece è troppo alto avremo un effetto distorsione che è assolutamente sgradevole per l'orecchio umano. Quindi in entrambi i casi è meglio evitare. Questa è una cosa che bisogna azzeccare giusta in fase di ripresa. L'audio deve essere corretto direttamente nel microfono e direttamente in camera, altrimenti poi ci sono problemi. Andiamo ora a vedere come si edita l'audio all'interno del nostro software di editing e per questa dimostrazione io userò Adobe Premiere Pro. Ovviamente esistono tanti software di montaggio audio e video. Io utilizzo quello a cui sono più avvezzo, ma qualsiasi software voi stiate utilizzando, se state usando Final Cut, se state usando Avid, qualunque cosa stiate usando, ecco cerchiamo di evitare iMovie e cose del genere se riusciamo, perché lì le personalizzazioni che possiamo fare cominciano a diventare più limitate. Però se stiamo utilizzando un software di montaggio abbastanza evoluto, tutto quello che vi faccio vedere avrà un corrispettivo sulla piattaforma che state utilizzando. Supponiamo di avere una sequenza montata. Ora come potete vedere qui abbiamo una serie di clip audio. Nel momento in cui andiamo a fare doppio clic in questo punto, vedete che la traccia si apre, possiamo anche andare a posizionarci qui all'intervallo e allargarla ulteriormente. A questo punto ci rendiamo conto, per esempio, che questa porzione ha un volume diverso rispetto a quest'altra. Vedete, ci rendiamo subito conto che hanno due volumi assolutamente diversi. Normalmente potremmo posizionarci a metà della traccia e andare a utilizzare questo fader per livellare i volumi. Però questo richiederebbe molto tempo e sarebbe anche abbastanza inaccurato, perché si baserebbe proprio sulla nostra percezione, mentre noi vogliamo andare a utilizzare degli strumenti professionali. Guardate che cosa vi faccio vedere. Nel momento in cui andiamo a selezionare una traccia e clicchiamo col tasto destro, abbiamo la possibilità di selezionare Audio Gain. Come potete vedere, qui abbiamo la possibilità di andare a normalizzare. Quello che ci interessa in questo momento è normalizzare per il massimo picco, ovvero stiamo andando a dirgli che il picco più alto deve arrivare a meno 6 dB. Nel momento in cui gli dico ok, vedete che mi ha alzato tutta quanta la traccia Audio, tenendo sempre presente che nessuno di questi picchi supererà i 6 dB. Ora io vado a ripetere l'operazione, però in questo caso seleziono anche quest'altra traccia. Ora meno 6 dB è uno standard, in questo caso però, ora io vado a selezionare entrambe le tracce, perché quello che faccio è che vado a livellare tutte quante le mie tracce Audio. Ovviamente se il parlato è consistente, se si tratta semplicemente di un momento di cadenza diversa, questa operazione andrà a normalizzare l'audio su tutto il mio video. Io gli vado a dire in questo caso meno 0,6, ed ecco che tutte le mie tracce sono state portate a meno 0,6, ovvero uno standard che mi consente di avere un audio che come potete vedere non clippa mai, si ferma sempre prima che il mio audio vada a clippare, anche i picchi più profondi si fermano comunque prima, e quindi mi consente di avere un'ottima percezione del volume durante tutto il mio video. Ovviamente questa è un'operazione molto importante, perché avere un volume costante del nostro parlato lungo l'intero nostro video è molto importante per fornire ai nostri ascoltatori l'esperienza migliore possibile. A nessuno piacciono i cali di volume o i picchi troppo alti, soprattutto se vanno a clippare distorcendo l'audio. In questo modo ci assicuriamo che anche se abbiamo fatto le riprese in momenti diversi della giornata, anche se le abbiamo fatte in luoghi diversi, anche se parlano persone diverse, con toni di voce differenti, andiamo a livellare tutto quanto in maniera tale da fornire l'esperienza di ascolto migliore possibile, fornendo sempre il picco massimo sempre uguale. Un'altra cosa che possiamo andare a fare per migliorare sotto questo punto di vista è andare a verificare un parametro che si chiama Loudness Unit, ovvero un conto è verificare il volume del nostro video. Il volume vedete che varia, perché varia a seconda di quello che sta succedendo, varia a seconda di quello che dice la persona che sta parlando, mentre esiste uno strumento che ci permette di valutare il volume complessivo del nostro video durante il tempo. Andiamo ad aprire la tab che si chiama Audio Track Mixer. Se non ce l'abbiamo ovviamente andiamo su finestra e andiamo a recuperarla da qui. La finestra che verrà aperta è questa qui. Noi andiamo qui in alto a sinistra, vedete che abbiamo una freccina che è quasi invisibile, non è facile da trovare, però una volta che la clicchiamo ci si apre questo pannello. Ora noi qui abbiamo le nostre tracce, tutte le nostre tracce audio, di cui l'ultima è il Master. Sul Master noi andiamo ad applicare un effetto, andiamo su Special e andiamo a selezionare Loudness Radar. Ok, abbiamo posizionato il nostro effetto, a questo punto andiamo a fare doppio clic sul nome dell'effetto qui nel rack ed ecco che si apre questo bellissimo pannello. La prima cosa che andiamo a fare, andiamo nelle impostazioni Target Loudness, andiamo a dirgli meno 16 dB, che è lo standard per le produzioni web. Altra cosa che andiamo a fare subito, selezioniamo un minuto, perché 4 minuti è un tempo veramente lungo. In ultima cosa che possiamo fare è che andiamo a selezionare LUFS, Loudness Units, che è una misurazione più accurata per quello che stiamo andando a fare. Ora, torniamo sul nostro radar. Ora, quello che dobbiamo fare, purtroppo, è che dobbiamo mandare il video in play in maniera tale da dargli una lettura di quello che stiamo andando a misurare sul nostro audio. Io adesso lo manderò avanti veloce per non tediarvi. Il mio risultato è già molto vicino al mio target, perché siamo a 15.4 dB. Quindi, se noi gli abbiamo dato un target di 16, siamo già molto vicini a quello che vogliamo ottenere. Io potrei anche lasciarlo così. Diciamo che se vogliamo proprio essere perfetti, io quello che potrei andare a fare, potrei andare ad aggiungere un effetto, Amplitude and Compression, e gli vado a dire Hard Limiter. Ok, nuovamente vado a fare doppio click per aprirlo. In questo momento la Maximo Amplitude è di meno 0,1 dB. Io gli vado a dare meno 0,3. Così siamo un pochettino più tranquilli se ci dovessero essere dei picchi molto violenti. In questa maniera siamo tranquilli che assolutamente niente vada a clippare. In questo caso, siccome io devo andare a ridurre il mio volume generale, io gli vado a dire meno 0,6. Meno 0,6 lo ricavo dal fatto che è questo 0,6 che serve per arrivare a 16. Per cui, io avendogli dato meno 0,6, adesso se vado a ripetere il test otterrò esattamente meno 16 dB. Ma non vi chiedo di credere a me. Io adesso resetto il mio loudness radar e vado a ripetere la lettura. In questa seconda lettura io registro esattamente meno 16 dB. Come facevo a saperlo? È semplicissimo, perché se una prima lettura mi dava meno 15,6, sottraendo meno 0,4 io vado a ottenere esattamente il valore che volevo. Quindi a questo punto io ho un volume che dovrebbe essere consistente attraverso tutto il video perché ho normalizzato tutte le varie tracce audio. Dopodiché, avendo applicato questo hard limiter sulla mia master track avrò un volume di uscita che è perfetto in ogni parte del video. Quindi avrò un volume che si posiziona sempre più o meno a questo punto che non va mai a clippare e che rimane costante durante tutto il video. Andiamo a esaminare una traccia audio. Andiamo ad allargarla bene così la vediamo correttamente. Vedete? Nel momento in cui abbiamo una traccia audio con del parlato avremo evidentemente tanti picchi quindi avremo dei momenti dove l'audio è molto forte seguiti da momenti in cui l'audio è molto debole quasi assente perché esistono delle pause ben definite nel parlato. Questa per esempio è quasi certamente una pausa che andremo poi probabilmente a rimuovere in post-produzione. Ciò non di meno esiste e quindi genera una differenza tra questa parte in cui l'audio è molto basso e questa parte in cui l'audio è molto alto. e come vedete si susseguono molto rapidamente. Ora se da una parte nel momento in cui io mando in play la mia traccia il volume è dato esattamente dall'ampiezza della forma d'onda in un dato momento e vedete che me lo confermano tutti gli strumenti di misurazione perché io qui sto usando il loudness radar che mi dà un tipo di volume e il mio volume generale della traccia mi conferma questa cosa. Vediamo però adesso che cosa succede nel momento in cui andiamo a esaminare un altro tipo di traccia. Questa come potete vedere è la sigla di apertura che uso abitualmente per i miei video di youtube. Andiamo a scoprire che cosa cambia tra questa traccia e la traccia vocale che abbiamo appena visto. Quindi io mando in play. La prima cosa di cui ci rendiamo conto è che ovviamente il volume è più alto e se il volume è più alto tendenzialmente anche la loudness sarà più alta. Inoltre sulle tracce audio va considerato che sono state sottoposte a mastering il che significa che l'audio è già stato compresso e limitato pesantemente. Infatti se andiamo a vedere ci rendiamo subito conto della differenza. Vedete questa prima parte era il mio volume audio e si colloca più o meno dove lo vogliamo mentre questa seconda parte è troppo forte. Qui si tratta della sigla ed è veramente troppo forte. Ora per avere una lettura precisa di quanto è troppo forte noi andiamo a resettare il nostro loudness radar andiamo a ripetere la lettura solamente su questa parte quindi io vado a fare una seconda lettura solamente sulla parte della musica questo mi servirà per capire di quanto la devo abbassare fondamentalmente è importante questo passaggio perché se io lascio una parte musicale o di effettistica o qualunque altro pezzo di audio molto più alto del mio parlato rischio che YouTube vada a comprimere l'intero mio video tagliandomi di fatto molte frequenze dell'audio che sono stato così attento a produrre e post produrre. dunque qui siamo a meno 10,4 per cui è almeno 6 decibel troppo alto quest'audio io posso fare una cosa molto rozzamente posso prendere il mio fader generale di questa clip e abbassarlo di circa meno 6.31 db adesso andiamo a ripetere la lettura e resettiamo il nostro loudness meter e vediamo se la lettura ci conferma che adesso l'audio è corretto ok come potete vedere la lettura ci dà meno 16,7 siccome in questo caso voglio essere oltremodo puntiglioso andrò ulteriormente ad abbassare di circa un decibel andrò di nuovo a resettare la mia traccia e di nuovo andrò ad eseguire una lettura ok come potete vedere a questo punto siamo a meno 17,6 però c'è un fatto stiamo tenendo in considerazione anche questa parte dove l'audio si abbassa di parecchio siccome voglio essere oltremodo puntiglioso adesso noi andiamo a eliminare questa parte questo è semplicemente una cosa che faccio per farvelo vedere visivamente è sufficiente bloccare la riproduzione audio in quel punto nel momento in cui io vado a riprodurre la mia porzione di audio dove l'audio pompa al massimo andiamo a vedere se la lettura è corretta o se è necessario abbassare ulteriormente la traccia come potete vedere questa lettura cambia nel tempo perché non sta valutando il volume in un dato momento ma sta valutando il livello di loudness generale ok il mio audio si è attestato a meno 17.8 quindi in realtà io potrei alzare un pochino la mia traccia a questo punto io vado ad alzarla di poco siamo andati abbastanza vicini ma adesso quello che ci dobbiamo ricordare è che questa sigla deve andare insieme con l'audio del resto del nostro video per cui adesso quello che andremo a fare è accostarli andiamo a fare una lettura quindi io mando in play un pezzo di voce e poi un pezzettino di audio e andiamo a renderci conto se i volumi sono equiparabili ovviamente qui non stiamo parlando non voglio trarvi in inganno con questo non stiamo parlando di volume ma stiamo parlando di loudness come potete vedere questa prima parte è audio questa seconda parte è musica la loro loudness è equiparabile per cui abbiamo correttamente sistemato la nostra traccia musicale e adesso è pronta per essere mixata insieme alla nostra componente audio a questo punto rimangono poche cose da fare per cui resistete ancora qualche secondo e vi svelerò uno dei segreti più importanti in fase di export per avere l'audio migliore possibile sui nostri contenuti per youtube nel momento in cui andiamo a esportare il nostro contenuto andiamo ad applicare le solite impostazioni che avremo dato in ogni caso quindi non cambiamo nulla di quello che abbiamo sempre fatto né nella parte video né tantomeno nella parte audio però andiamo a personalizzare la parte effetti andiamo nelle ultime tab in basso e andiamo a cercare loudness normalization andiamo a spuntare questa casella i parametri che gli dobbiamo dare sono innanzitutto questo valore ETUBS che è uno standard che ci interessa particolarmente perché ci permette di avere il loudness standard corretto per il web e per youtube target loudness gli andiamo a dare meno 14 che è lo standard dedicato di youtube tolleranza gli andiamo a dare un bello 0 max through peak level gli andiamo a dare meno 1 in questo modo abbiamo impostato gli effetti di uscita del nostro video per avere l'audio migliore possibile per quella che sarà poi la conversione di youtube nel momento in cui andremo a caricare il nostro video questo è tutto quello che dobbiamo fare per avere l'audio migliore possibile nel momento in cui andiamo a esportare i nostri contenuti in particolare per la piattaforma youtube tuttavia le cose che vi ho detto nel corso di questo video sono valide anche per la maggior parte delle nostre produzioni dalla microfonazione alla lavorazione fino a quest'ultimo passaggio è tutto sempre valido per avere la catena audio migliore possibile e postare i nostri contenuti con una parte audio che sia all'altezza delle specifiche e che sia all'altezza della qualità video che ci poniamo di proporre ai nostri utenti ricordiamo che soprattutto in questi tempi in cui la competizione soprattutto su youtube è molto alta è importante alzare l'asticella di tutte le nostre produzioni e la parte audio non deve assolutamente essere sottovalutata una cosa che non vi ho detto nel corso di questo video è che spesso non è sufficiente limitarsi a registrare l'audio della voce ma questa deve essere molto spesso coadiuvata da degli effetti sonori che andiamo a inserire in post produzione così come da una serie di altre clip che possiamo includere all'interno del nostro video che possono essere musiche di sottofondo sigle d'ingresso e sigle d'uscita tutto questo è molto importante e va a completare quella che è la nostra offerta video e ricordiamoci che la parte uditiva non è mai o quasi mai scollegata dalla parte visuale bene eccoci finalmente all'interno di youtube dove voglio farvi vedere perché di quest'ultimo passaggio ora al di là del fatto agghiacciante che in questo momento youtube non carichi assolutamente niente però quello che voglio farvi vedere è valido anche se non c'è il video sotto noi andiamo a premere col tasto destro e vedete che qui abbiamo statistiche per nerd ora questo è un mio contenuto che è stato caricato un po' di tempo fa a questo punto vedete che connexion speed network activity e buffer health non c'è niente perché in questo momento non carica è defunto però le informazioni che ci interessano ci sono lo stesso quindi ve le faccio vedere ugualmente quello che ci interessa è questo volume normalizzato ora qui noi possiamo vedere che stiamo ascoltando a un volume del 100% e che la loudness del nostro contenuto è meno 3.6 db ecco qui vedete si è verificato un errore però il dato è vero lo stesso quindi noi ci limitiamo a osservare questo dato meno 3.6 db questo video sostanzialmente non sta andando al massimo volume a cui potrebbe andare probabilmente responsabile di questo fatto è proprio il mio scarso trattamento dell'audio perché il trattamento che io dedico al mio audio migliora di volta in volta migliora nel tempo man mano che studio e imparo cose andiamo quindi a vedere che cosa succede su un altro contenuto che ho caricato più di recente facciamo la stessa cosa andiamo a vedere statistiche per nerd e vedete che in questo caso siamo sempre al 100% ma la content loudness questa volta è meno 0.4 db quindi è molto più forte la loudness di questo video questo proprio per l'ultimo passaggio che vi ho fatto vedere in realtà concorrono un po' tutte queste cose però l'ultimo passaggio è proprio quello che serve a far capire a youtube che abbiamo già trattato noi l'audio in maniera tale che non ci sia bisogno di un'ulteriore compressione di un abbassamento del volume quindi questo è molto importante per avere il nostro contenuto che gira al volume massimo possibile laddove ovviamente questo sia quello che noi desideriamo se facciamo ASMR magari non è quello che vogliamo sparare il volume a 1000 però nella maggior parte dei casi la loudness world ci ha insegnato nella musica che chi ha il volume più alto vince perché domina sugli audio di tutti quelli che ha intorno quindi questa è una lezione da qui non siamo usciti molto bene perché ci ha fatto perdere un pochino quella che era la dinamica dell'audio però alla fine quando stiamo caricando i nostri contenuti quello che ci interessa è di essere sentiti chiaramente sulla maggior parte dei dispositivi disponibili quindi questo è importante perché ci permette di venire fuori bene sulla maggior parte dei device senza obbligare i nostri utenti a fare continuamente su e giù col volume bene ragazzi si è fatta mezzanotte e mezza se voi sapeste fino a che ora sto alzato per preparare i contenuti per voi non ci pensereste due volte mettereste subito un like a questo video e vi iscrivereste anche attivando la campanella perché altri contenuti utili come questo sono in arrivo molto molto presto con questo io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video e vi iscrivetevi al canale Grazie a tutti.